Finalmente è arrivato, La guerra dei rossi, è un libro che ho scritto durante la pandemia, il primo lockdown, finito il 27 agosto, 280 pagine di sofferenza, di racconti di vita vissuta in questo pronto soccorso che è il mio studio regale, storie avvenute prima del Covid e durante il Covid, in cui noi avvocati abbiamo fatto la nostra parte. Lo potete prenotare dal vostro libro di fiducia negli store online. Un abbraccio a tutti.